Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video sugli aggiornamenti di Minecraft. Oggi ragazzi andremo a reagire a un video di news uscito sul canale ufficiale di Minecraft. Ultimo video e finale di stagione della serie dei segreti del gioco. Prima di iniziare con il video voglio però rinfrescarvi un po' la memoria. Se ricordate nel corso dei mesi ho più volte portato dei video di approfondimento su delle novità mai arrivate nel gioco, con più che altro feature scartate per l'appunto, ad esempio il design degli Skull, il design del Warden, oppure appunto ultimamente abbiamo messo un video con i segreti del Deep Dark. Tutti questi video si sono ispirati a questo format sul canale ufficiale di Mojang, di Minecraft, che tratta i segreti del gioco. E dato che è uscito l'episodio finale per ora, lo andiamo a guardare insieme. E questa volta ci reagiremo direttamente, perché mi sono preso bene con le reaction. Se anche voi vi siete presi bene con le reaction e ne volete altre di qualsiasi tipo qui sul canale, supportate con un bel like e fatemi sapere nei commenti qualsiasi video a cui reagire vi venga in mente. Magari i più votati, i più richiesti li potremo portare nei prossimi giorni. Ed eccoci qui ragazzi, ho già pronta la schermata. I segreti finali di Minecraft, non proprio, in realtà è il finale dei segreti di Minecraft, la serie. Andiamo a vedere insieme questo video, cercherò di tagliare tutte le parti morte così non vi annoiate, andiamo diretti al punto. Ragazzi, via con l'episodio finale dei segreti di Minecraft. Si parte con... Ok, il quartier generale segreto di Mojang. Va bene, non penso proprio sia questo. Buongiorno Studios, YouTube Production, non siete abbastanza talentuosi per fare i dev? Bello questo, bello, si piange. Hanno identificato il traditore che licca i segreti del gioco. Che è praticamente, sembra la sua coppia sputata, ok. Con questa scenetta ci dicono che la serie verrà cancellata perché stanno liccando troppe info di Minecraft. Mmm, va bene, vedremo cosa succederà. Questo è il futuro di Minecraft e nessuno potrà stopparmi. Ok, ok. Però ragazzi, fatemi tornare indietro un attimo subito perché lo schermo dietro il personaggio è verde, ok. Però poi si gira e non mostra più quello che c'è. E qui si vede solamente uno schermo rosa, violaceo, diciamo. Con lui che dice questo è il futuro di Minecraft e nessuno potrà fermarmi. E che colore è questo rosa qua dietro? È proprio il colore degli Enderman. L'occhio dell'Enderman è il colore tipico dell'End. Indizio dell'End Update? Incominciamo con le speculazioni, gente? Ok, forse sto esagerando qua. Andiamo avanti, va. Sarebbe un bel easter egg però nascondere così un indizino, eh. Sarebbe il momento di questo End Update. Ok, non si vede bene ma è morto, è uno zombie lui, perché? Vabbè, questi sono i due personaggi che fanno lo show, ovvero il presentatore e il computer. Ok, va bene. Ah, ok, dice che è uno zombie perché è morto nel precedente episodio, va bene. Lei dice, parliamo di fango? E lui dice, no, dobbiamo informare i player Dell e poi viene interrotto. Cos'è che non ci vogliono dire, mannaggia? Ok, che cos'è questa cosa? Potevi incastrarti nel fango? Interessante questa cosa. Praticamente, durante i prototipi avevano pensato che il fango ti facesse lentamente sprofondare in esso. Quindi sprofondavi 6 pixel all'interno del terreno. E gli scarpini, gli stivali di gioco, si potevano incastrare nel fango. E uscendo dal fango, salvandoti, perdevi le scarpe che rimanevano davvero nel blocco. Per poi doverle ricercare nascoste tra i blocchi di fango. Non so come sentirmi a riguardo, eh. Sarebbe stata una funzione simpatica e divertente, ma alla lunga probabilmente avrebbe rotto molto le scatole. Quindi bene che non l'abbiano messa questa. Poi non avremmo potuto usare il fango per buildare i sentieri. Perché se ci affondi dentro non puoi buildarci, insomma. Si parla di bagni di fango. Ok, ovviamente questa è un'immagine che non c'entra. Ma attenzione, attenzione. Ok, qui abbiamo un design, un concept di questa palude che non è mai arrivata. Interessante come cosa. Abbiamo una casa fatta di fango. Mura di fango. Ma la cosa bella è che c'è il fango solido. E c'è anche il fango liquido. Dove ci vanno dentro i maiali. Avrebbero in questo modo potuto aggiungere i famosi maiali sporchi di fango. Variante del mob che era presente in Minecraft Earth prima che venisse cancellato dal mondo. E poteva essere mai ripresa questa feature portata in Minecraft Vanilla. Sarebbe stato interessante avere delle pozze di fango liquido. E una distinzione tra i due tipi di fango. E sarebbe stato anche interessante avere un nuovo tipo di liquido nel gioco. Anche se come interagiva con l'acqua e la lava. Cioè potrebbe essere un po' un casino come cosa. Peccato però che non abbiano messo quest'idea. Perché avere quella delle pozze proprio di fango. Con i maiali che entrano e assumono quella skin diversa. Anche così come Easter Egg sarebbe stato molto simpatico. A me sarebbe piaciuto molto. Andiamo avanti. Ok praticamente poi hanno trasformato il fango in qualcosa di più solido. E qui abbiamo l'esempio di alcune texture che poi non sono state usate. Per il fango solido come materiale da costruzione. Ora sappiamo che ci sono i mud bricks e il packet mud. Questi tipi di fango sono un po' strani. Ovviamente non è un blocco solo. Ma è una texture fatta di probabilmente tre blocchi per tre. Così ad occhio. Alcuni di questi sembrano molto rocciosi. Quindi molto strani. Altri sembrano un po' della ghiaietta. Penso che alla fine abbiano fatto un buon lavoro con il fango definitivo. E alla fine hanno aggiunto i mud bricks come li conosciamo. Che sono un ottimo blocco. Sì magari non dovrebbero essere usati così ma vabbè. I segreti che non abbiamo mai leccato. Ok ci dicono che negli scorsi mesi hanno mostrato un sacco di leak del gioco. Ma soprattutto idee che non sono arrivate nel gioco finale. Che ci facessero capire quanto lavorano alle aggiunte. Tanto da avere un sacco di concept scartate per arrivare l'idea definitiva. Che poi questi concept spesso volentieri ci piacevano. Questa cosa che state vedendo è il motivo per cui non metto tutto il trailer. Ma editerò via le parti morte. Che cos'è sta roba? Perché? Ok hanno finito. No era un falso. Va bene. Ah il cattivo di prima. Ok sono saltati in una sorta di macchina. E prima di chiudere la serie credo che ci entreranno anche loro. Eh sì. Vogliono saltare l'interno. Ci vediamo dall'altra parte. Sono entrati in questo portale. Mmm. Un portale. Proprio come quello del Deep Dark. Forse lì vedremo da un'altra parte. In un'altra dimensione nei prossimi episodi. Quindi la 1.20 sarà l'update di una dimensione. End update di nuovo. Vabbè è una sorta di poster per quello che arriverà forse il seguito di questa serie. Around the Minecraft World. Aspetta. Questo titolo è ispirato al giro del mondo in 80 giorni. Ma questo è il giro del mondo di Minecraft in 80 biomi. Ma ho un dubbio. Ho un dubbio. Scusate un attimo. Minecraft Biome List. Eh mi ricordavo bene ragazzi. I biomi di Minecraft non sono 80. Al momento vanno dall'ID 0 all'ID 62. Quindi sono 63 biomi. Che sia anche questo un indizio. Aggiungeranno nuovi biomi. Ma per aggiungere così tanti nuovi biomi. Ti servirebbe una dimensione intera da riempire di nuovi biomi. O una dimensione che non ne ha abbastanza e gliene metti di più. No ragazzi probabilmente è solamente una cheat. Ma sarebbe molto figo se questa scritta finale nascondesse un update che aggiungerà più biomi. Sarebbe molto molto figo. Servirebbero due dimensioni per farne così tanti. Almeno due. Un end update e la dimensione nuova. Non credo arriveranno insieme. E niente ragazzi. Concludiamo con delle riflessioni. Questa serie del canale ufficiale è sempre stata molto divertente. Perché ogni tanto svelano dei dettagli fighi del gioco. Il gioco è stato migliorato tantissimo negli ultimi tempi. Un po' più a rilento del previsto. Però basta guardare questo panorama. Per capire quanti passi in avanti siano stati fatti. E in questa serie abbiamo visto anche alcune idee scartate. Molto interessanti. Chissà se qualche indizio è stato dato per il futuro. Io ho provato a carpire più informazioni possibili. Ma potrei come sempre aver sovranalizzato tutto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Però ragazzi voglio chiudere dicendo una cosa. Se quegli indizi che ho carpito fossero reali. Sarebbe una mina davvero assurda. Io ad oggi non so ancora dirvi che cosa potrebbe essere l'1.20 come update. Ma vi posso dire che la strada più logica e la cosa più facile da aspettarci è sempre comunque l'end update. Che deve arrivare. Hanno detto che prima di una nuova dimensione devono per forza di cose aggiornare quelle vecchie. E l'end va aggiornato. Quindi l'end update è necessario prima di andare ad aprire quel portale delle Deep Dark City. E visto che l'hanno messo avranno intenzione prima o poi di entrarci. Si spera. Certo potrebbero esserci altri update. Lo abbiamo detto l'archeologia, il desert update eccetera eccetera. Che potrebbero arrivare prima. Questo non lo sappiamo. Ma restano queste ipotesi salde in mente. Per il resto ancora è presto per dirlo. Ma presto partiranno anche video di speculazione un po' più precisi. Per il resto ragazzi noi ci salutiamo. Ci vediamo domani con un nuovo video. Come sempre e ci vediamo stasera con la Pandora in live alle 20.30. Un saluto da Eren. Ciao a tutti.